Ti sei mai chiesto come Justin Bieber sia riuscito a passare dall'essere un ragazzo normale a una delle più grandi star mondiali? La sua storia è un esempio incredibile di determinazione, talento e duro lavoro, che può insegnarci molto su come raggiungere il successo, anche quando sembra impossibile. Justin Drew Bieber nasce il primo marzo 1994 a London, in Ontario, Canada. Cresciuto da una madre single, fin da piccolo mostra un talento naturale per la musica, imparando a suonare la batteria, il pianoforte, la chitarra e la tromba da autodidatta. La sua passione per la musica lo spinge a partecipare a piccoli concorsi locali e, all'età di 12 anni, si classifica secondo in un talent show della sua città. Ma è grazie a YouTube che Justin Bieber inizia a farsi notare, pubblicando video delle sue esibizioni che attirano l'attenzione del manager Scooter Brown. Nel 2008, la vita di Justin cambia radicalmente quando firma un contratto con Raymond Brown Media Group e successivamente con la Island Records, dove incontra Asher, uno dei suoi mentori più importanti. Da quel momento, la sua carriera decolla con l'uscita del suo primo singolo one time, che scala rapidamente le classifiche in tutto il mondo, ma è nel 2009 che Bieber diventa una vera e propria sensazione globale, con il suo album di debutto My World. Da quel momento ogni sua canzone sembra destinata a diventare un successo. Il percorso verso il successo non è stato privo di ostacoli. Justin ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui una pressione mediatica enorme e alcune controversie personali, ma è sempre riuscito a rialzarsi e a tornare più forte di prima. Negli ultimi anni Justin ha lavorato molto su se stesso, sia a livello personale che artistico, dimostrando una grande maturità e continuando a creare musica che ispira milioni di fan in tutto il mondo. La sua storia, CI, insegna che, anche quando la vita CI mette di fronte a difficoltà, con dedizione e lavoro, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Non importa da dove parti, l'importante è la determinazione e la costanza con cui lavori per i tuoi sogni. Se ti interessa conoscere altre storie di successo, come quella di Justin Bieber e vuoi rimanere aggiornato su contenuti che ti aiutano a migliorare il tuo mindset, iscriviti al canale Mindset Vincente e lascia un like a questo video. Questo semplice gesto aiuta il canale a crescere e ti permette di non perderti nessuno dei prossimi video. Ci vediamo presto qui su Mindset Vincente.